Dal consiglio comunale che si è tenuto appoggio Mirteto arriva la grande attesa notizia che riguarda la struttura sanitaria di via Finocchietto. La regione infatti ha dato l'ok per l'affidamento per 5 anni con successivo rinnovo per altri 4 anni al soggetto, ossia al centro di riabilitazione motoria Villa Ardiatina, che dovrà attuare e gestire 60 posti letto per la riabilitazione. Nell'ultimo consiglio comunale infatti il direttore dell'ASL di Rieti, Laura Figorilli, ha annunciato la novità come spiegato dal sindaco Mirtense Giancarlo Micarelli. Si procederà adesso con le pratiche amministrative che necessariamente porteranno al compimento dell'iter e quindi all'obiettivo finale che è quello di aprire e vedere funzionare il centro di riabilitazione. La struttura dovrà essere dotata di quanto occorre poi il definitivo benestare da parte della regione con l'autorizzazione per partire con i 60 posti letto di riabilitazione in regime residenziale, suddivisi in 17 posti per trattamento riabilitativo estensivo e 43 posti in trattamento socio-riabilitativo di mantenimento. Grande la soddisfazione che arriva dopo un lungo e attento lavoro da parte non solo di tutti i livelli istituzionali della regione ma anche del comune, compresa la minoranza.